In questo 25 aprile, un po' diverso, l'AMPI provinciale ha promosso una staffetta a cui la nostra sezione di Veranobrianza partecipa con una testimonianza. Le piazze saranno vuote, ma ancora siamo chiamati a resistere e a vincere, questa volta contro un nemico invisibile che ha potuto svilupparsi anche a conseguenza dei tagli alla sanità pubblica, effettuati in spregio alla nostra Costituzione che siamo chiamati a ribadire quando torneremo a riempire le nostre piazze. A Veranobrianza il desiderio di democrazia e di una vita libera coinvolse nella resistenza molti giovani. Nel territorio di Verano e Carate operava la 119esima brigata Garibaldi con la SAP di Bona, a cui aderirono i veranesi Fortunato Mandelli, 19 anni, che poi morì nel campo di concentramento di Flossenburg, e la 17enne Maria Entide Zecca con il ruolo di staffetta di collegamento con le gap di Milano di Melegoli e Pesce. La sera del 25 aprile del 45, armi in pugno, Maria insieme ad altri partigiani entrò nelle scuole romagnosi, che allora era il comando nazista, per trattare ed ottenere la resa incondizionata. Al molino bistorcio di Verano Brianza abitava la famiglia Preda, una famiglia partigiana, la mamma Luigia e la staffetta di collegamento con i partigiani della Valsassina. I figli Angelo e Gerolamo militavano nelle brigate partigiane dell'Ossola. Il figlio piccolo Mario, a soli 15 anni, nel marzo del 45 decise di raggiungere i fratelli e scappò sulle colline del Verano, dove si unì alla decima brigata Rocco della seconda divisione Garibaldi-Redi, comandata da Cino Moscatelli. Gli fu assegnato il nome di Topolino, ma per la giovane età gli fu negata un'arma. Gudo Petter, il partigiano meno tre, nel libro che importa se ci chiamano banditi, ricorda che durante una marcia di trasferimento sentirono Topolino canticchiare una canzone a loro non conosciute. Era una canzone delle mondine, che però in pianura molti cantavano, cui avevano cambiato le parole. La sera, per la prima volta, in brigata tutti insieme cantarono Bella Ciao e successivamente la canzone raggiunse le brigate partigiane della Valsesia. Il 25 aprile del 45, mentre tutta Italia era in festa, per la sconfitta del fascismo, la dittatura da cui prese inizio la tragedia della seconda guerra mondiale e dello sterminio, i partigiani del Vergante erano impegnati a fronteggiare i nazisti, in fuga per evitare che si ripetessero ulteriori stragi e ruberie come nelle giornate precedenti. Probabilmente una spia indicò ai nazisti il punto dove era appostata una squadra di partigiani con funzione di controllo e comunicazione. Furono presi alle spalle. Una raffica di mitra colpì subito Pierino Piemontesi, di 21 anni amico di Topolino, che si lanciò in soccorso dell'amico e fu a sua volta colpito ed ucciso. I nazisti infierirono poi sui loro cadaveri. Ogni anno, insieme a Lampi del Vergante, organizziamo una manifestazione in memoria di Topolino, recandoci al cippo in memoria nei boschi di Someraro, sopra Stresa. Per ricordarlo, quest'anno abbiamo messo a disposizione di tutti la testimonianza di Giulia ed Enrico, sorella e fratello di Topolino. Potete vederla e ascoltarla sulle pagine Facebook del Lampi di Verano Brianza, oppure su YouTube Cercando Giulia ed Enrico ricordano il fratello Mario Preda.